In che data? Che data è oggi? Oggi è il 25 di giulio. 25 di giulio. Ci abbiamo quante piante in deposite? Quante sono? Quante pauloni? Sono 90.000. 90.000. Già sono tagliate, vedo che sono più forte, no? Faccio un lavoro bene qui. Anche la radice è buona. Sono disponibile subito per caricare.